Recupero, inclusività, sostenibilità sono i principi alla base dell'intervento realizzato da Roma Capitale per dare nuova vita all'area giochi di Colle Oppio. A curare l'operazione di recupero, Francesca Notarbartolo, responsabile della progettazione delle aree gioco di Roma Capitale. Dunque, questo è un intervento realizzato con lo stesso tipo di finanziamento di quello di Villa Ada, cioè per un'area inclusiva, che però è stato declinato in maniera completamente diversa perché la situazione di partenza era diversa. Qui noi avevamo una struttura a quattro torri, molto bella, recuperabile, e abbiamo deciso di costruire intorno un'area. Una struttura che nuova sarebbe costata parecchi soldi del finanziamento che avevamo a disposizione e invece abbiamo avuto modo di recuperarla con nuovi materiali. Il recupero delle strutture ancora in buono stato è uno dei pilastri della nostra azione. diciamo strategia operativa. Un recupero che pone al centro l'inclusività in una delle aree più multiculturali della città. Abbiamo potuto realizzare un'unica colata di gomma antitrauma che permette sicuramente una frizione in maggiore sicurezza per tutti i diversi bambini che devono utilizzarla e abbiamo aggiunto delle strutture, un'altalena inclusiva, un'altalena con seggiolini a tavoletta per bambini di diversa età, dei giochi a molla, una casetta con dei pannelli multiattività che ha per esempio uno specchio che è particolarmente adatto ai bambini che hanno disturbi dell'ospetto autistico, ha una lavagna dove si può disegnare e come ultimo elemento, considerato che quest'area storicamente è un'area che viene frequentata da famiglie di differenti provenienze culturali, abbiamo aggiunto degli strumenti musicali che permettono ai bambini di comunicare al di là delle loro provenienze diverse linguistiche.